I molti discorsi non appagano l'anima, invece una vita buona rinfresca la mente e una coscienza pura da grande fiducia in Dio. Quanto più grande e più profonda è la tua scienza, tanto più severamente sarai giudicato, proprio partendo da essa, a meno che ancora più grande non sia stata la santità della tua vita.